Ciao a tutti, sono Filippo, ho 18 anni, sono un studente e un giocatore di palacanestro della Robur Saronno. Sono entrato a far parte del gruppo dei papà l'anno scorso, grazie ad Angelo che mi ci ha invitato, perché lui lo conoscevo già da un po'. Prima di entrare a far parte di questo gruppo ero un po' timoroso, perché non sapevo se questo nuovo inizio avrebbe potuto portarmi dei veri benefici e inoltre avevo paura di non riuscire a lasciarmi andare e a buttare fuori quello che ho dentro. Però devo dire che conoscendo le persone di questo gruppo, ascoltando e vedendo la loro disponibilità, mi sono reso conto che è stato abbastanza facile lasciarmi andare. E da questa cosa mi ho tratto veramente maggiori benefici, perché sono entrato a contatto con delle mie paure, che magari prima facevo fatica a riconoscere a me stesso, come magari paura del giudizio, paura di non essere abbastanza. Sono tutte cose che se ti porti avanti troppo dopo un po' ti logorano. Mentre buttarle fuori, condividerle, sicuramente è stato un passo in più per me. Adesso dire di cosa parliamo all'interno di questo gruppo è veramente difficile, perché vogliamo di veramente tante cose. Però quello che posso dire è che ogni sessione con loro, per me, è una scoperta, sempre un inizio di un qualcosa di nuovo. E nel gruppo sto sperimentando cosa vuol dire vivere nell'amore per se stessi, ma anche per gli altri. Un altro beneficio è quello di conoscere persone in modo più significativo, di età diversa dalla mia. E ovviamente da questo ne ho solo da imparare. Nel gruppo ci sono anche giocatori professionisti. Sono persone che sicuramente ammiro, perché sono un po' anche quello che mi piacerebbe diventare, essendo anche giocatore di basket. E chissà, magari un giorno raguncerò a livelli simili, si sa mai, cosa ci porta alla vita. E niente, quindi ringrazio Angelo, ringrazio il team di papà, e spero che magari qualcuno, vedendo questo video, potrà essere interessato a farne parte. Io sicuramente ne sarei contento, quindi un saluto a tutti. Grazie a tutti.